In casa il Viurt tende a performare ottimamente, quindi se vuoi andare su Abbiamo, penso che stai parlando limited, grazie ti tiro, grazie per il follower, dicevo che abbiamo detto, Abbiamo, ha un turno dove potrebbe tornare al gol, e abbiamo anche lui, cost ridicolissimo, anche la carta nuova lo trovate a 0-0-13, secondo me potrebbe tornare al gol, è un attaccante un po' così, discontinuo, però se proprio vuoi provare, lui è titolare, se non vuoi mettere Schuller, puoi provare anche così.